Confermato il caso di positività al Covid-19 di un paziente del Policlinico di Sasseri, è stata disposta la chiusura immediata dell'intera struttura e la messa in quarantena di tutto il personale. Sono dunque quattro i casi confermati in città. Per i pazienti ancora ricoverati nelle cliniche di Viale Italia e non dimissibili, sono state disposte le turnazioni degli operatori sanitari. Si è inoltre proceduto alla bonifica del terzo piano in cui era adegente dai primi di marzo l'uomo che avendo contratto il virus al momento del ricovero appariva asintomatico. Gli altri tre pazienti che erano ricoverati nello stesso piano e al momento non dimissibili sono stati trasferiti al secondo. Tutti gli operatori sanitari non medici esclusi dai turni sono stati momentaneamente sospesi. Completato il percorso di bonifica e messa in sicurezza, la struttura rimarrà a disposizione di eventuali esigenze del servizio pubblico. In tutte le altre strutture ospedaliere pubbliche sono stati istituiti turni di 12 ore con pause di 30 minuti ogni 6 ore. Le segreterie regionali dei sindacati Funzione Pubblica CGL e Cisley Will nella consapevolezza dell'emergenza chiedono che vengano prese tutte le precauzioni affinché sia protetta l'unica vera risorsa a contrasto del virus, il personale sanitario del sistema regionale, destinando tutte le risorse disponibili a livello aziendale per finanziare la creazione di una squadra di emergenza e garantire il massimo accesso alle cure alla popolazione sarda.